partite in vantaggio si porta a dislancio Maurino nei confronti di vera amicizia French Spirit quindi ancora Cebbal Rai a largo Dairun poi ancora Strong Hunter Budrio e il resto del gruppo chiuso da Matador Maurino prosegue deciso in vantaggio all'imbocco della curva e ha circa tre lunghezze di vantaggio sul gruppo capeggiato da Regalab e Strong Hunter in quarta posizione vera amicizia con all'esterno Cebbal Rai poi segue ancora French Spirit Budrio, Lacrima d'amore e il resto del gruppo chiuso da Matador sempre in vantaggio poco prima dell'ingresso diretta d'arrivo Maurino nei confronti di Regalab, Strong Hunter, Cebbal Rai, vera amicizia quindi Last of Born per linee interne French Spirit Budrio quindi ancora Lacrima d'amore e Drunk with Lab a largo di tutti siamo a 450 dal palo Maurino è ancora deciso leader nei confronti di Regalab a centro pista si impegna Cebbal Rai con all'interno Last of Born a largo di tutti anche Ersidia, Drunk with Lab che non progredisce Maurino in vantaggio a 250 dal palo su Last of Born Cebbal Rai ed Ersidia quindi Regalab nel tratto finale Maurino è attaccato da Last of Born a centro pista scatta Ersidia nei confronti di Cebbal Rai finisce forte anche Dairun sul palo Ersidia attaccata da Dairun a ridosso Last of Born e Cebbal Rai bel finale da rivedere con Ersidia che probabilmente la spunta ma Dairun è finito molto forte al suo esterno andiamo a rivedere le immagini e i due sono veramente vicini c'è bisogno del risponso del giudice d'arrivo per il terzo la spunta all'interno il 15 di Last of Born su Cebbal Rai quindi per la vittoria bisognerà aspettare il risponso del giudice di arrivo Grazie a tutti